Grazie a tutti. Dai! Angelo! Lasciala fuori! Ippi, mamma mia! Mario! 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 ma chi è bargolla vai lori, vai lori, meglio lori non è Beppe ma chi c'è al centro? ballo mamma mia va bene così Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Prendetelo la palla La fascia, bimbo, bravo! Che è successo? Vai! Vai, Beppe! Vai! Vai! Seppa! 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 Con le mani, con le mani! Forza Federico, per di vedere! Forza Federico! Controlla! Bravo! Ah! Vai cazzo! Dai! Fuori! Dai, dai! Piano, piano, piano! Oh, ciao! Fuori, fuori! Fuori, fuori! Fuori! Fuori, 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 fuori. è un'altra cosa, è un'altra cosa. vai vai provoci fede prima ragazzi non giochiamo lì sei solo sei solo calma calma lori portala 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 sali spazza 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 no carusi e beppe guarda l'altro lato l'altro lato l'altro 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 l Allarghiamo, allarghiamo, allarghiamo Allarghiamo, allarghiamo Allarghiamo, allarghiamo Allarghiamo, allarghiamo 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 Allarghiamo